Un centinaio di bikers è pronto a invadere la Sassonia per dar vita a un motoraduno unico nel suo genere. Infatti sabato 28 e domenica 29 luglio prenderà il via il Motor Food Festival. L'evento organizzato dal Comitato Sassonia in collaborazione con il Comune di Fano e il patrocinio dell'Assemblea Legislativa Regione Marche proporrà in tutto Vielle Adriatico esposizioni dei motori, iniziative, street food a tutti gli appassionati e non solo delle due e quattro ruote. Quest'anno l'Associazione Sassonia prova a organizzare questo nuovo evento. Ovviamente sarà chiuso un tratto di Sassonia, non tutto perché è un anno zero quindi coinvolgeremo una parte della Sassonia ma l'obiettivo è quello di crescere per cercare di arrivare a coinvolgerla tutto. Ci saranno dei track food, ci saranno delle moto, delle auto, sabato ci sarà un concerto e durante la mattina e il pomeriggio invece ci sarà un'animazione per i bambini con una sorta di dimostrazione di quad, di mini quad con un percorso dove ci saranno anche dei premi per questi bambini. Quindi abbiamo cercato di coinvolgere, di fare un evento dove si potesse coinvolgere con bambini, anche grandi, con animazione, spettacolo, un po' di tutti i gusti.